Attimi di paura per una giovane aretina che lo scorso venerdì ha rischiato di trovarsi faccia a faccia con i ladri che avevano fatto irruzione all'interno del suo appartamento in una zona a bel vedere a pochi passi dal centro aretino. Erano da poco passate le 19 quando la donna mentre stava aprendo il portone di casa si accorta che era stato inserito dall'interno il chiavistello. La giovane inoltre aveva sentito dei rumori provenienti dall'abitazione, entrambi segni evidenti che qualcuno aveva deciso di farle visita. La donna ha così chiamato il compagno e la polizia ma all'arrivo delle forze dell'ordine e dei malviventi non c'era più traccia. Il ladro e i ladri erano infatti scappati dalla finestra, la stessa dalla quale erano entrati arrampicandosi prima in un terrazzo alto circa 3 metri. Questo è stato un mesetto fa, sono arrivati in su, poi sono saliti lì e hanno rifatto quell'altro pezzo, sempre con questo tubo. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per riaprire il portone. I ladri fortunatamente non sono riusciti a portarvi a nulla, restano però i danni e soprattutto la paura. Viviamo un po' così in difficoltà perché la sera specialmente per uscire c'è sempre un pochino di paura, specialmente le donne. Nella stessa zona negli ultimi giorni si sono consumati altri furti. Due al mio piano qui, a piano terra, piano rialzato. Uno al secondo piano, uno a questo palazzo qua, al secondo, e poi al villaggio Cattolino ce ne è stati tre o quattro. Come vivete adesso? È sempre scatenati in casa. Io quando sono sola cerco di chiudere la porta.